I racconti che arrivano dalla Turchia, dai sanitari e dai vigili toscani andati in aiuto, parlano di un paese profondamente ferito, tra macerie e devastazione. Qui ormai hanno poco di tutto, ci sarebbe bisogno di qualunque cosa. E' quanto racconta a Lanza Sara Montemerani, dottoressa che lavora ad Arezzo, una delle operatrici toscane del 118, impegnata per il terremoto in Turchia. Ci rincorrono perché vorrebbero che si riuscisse a dare una mano a tutti, ma questo non è possibile perché siamo un contingente limitato e cerchiamo di fare il possibile sui target che ci vengono assegnati. Ma la situazione è davvero drammatica e difficile perché hanno perso tutto, non c'è una palazzina rimasta in piedi, non c'è acqua, non c'è riscaldamento, qui non c'è più niente. I vigili del fuoco, aggiunge, hanno fatto un gran lavoro perché hanno allestito un campo base che ci permette di avere almeno un posto dove riposare. Stiamo facendo dei turni di sei ore, divisi tra sanitari e squadre dei vigili del fuoco, mantenendo sempre entrambe le competenze. Il nostro campo base è Allaitai Stadium, da cui partiamo per la città, dove ogni giorno ci vengono assegnati dei campi di lavoro su cui andiamo a intervenire. Ieri l'operatrice è partecipata alle lunghe operazioni che hanno portato al salvataggio del giovane rimasto incastrato sotto le macerie. Ieri è stata una giornata complessa, racconta ancora, che ha richiesto una tempistica di intervento più prolungata, perché siamo stati fuori dalle sei di mattina a mezzanotte. Intanto il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, ha detto che sarà probabilmente utile organizzare una nuova squadra e noi, ha detto il governatore, siamo prontissimi per poterlo fare. Grazie.